Eccoci tornati in studio dunque per andare a vedere che cosa propongono i quotidiani telematici. Vediamo subito il titolo d'apertura per quel che riguarda cimonline.it che apre sulla Concordia. Come abbiamo visto anche sui giornali, la Concordia e la politica erano gli argomenti principali per quest'oggi e così in effetti anche per la stampa telematica. Scegli appunto la Concordia d'apertura cimonline.it. Lavoriamo per far restare la Concordia in Italia, lo dice il presidente dell'autorità portuale di Assoporti Monti che ribadisce l'importanza della sinergia tra gli scali. E intanto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Porrello polemizza con il sindaco Tidei. Stesso titolo d'apertura anche per quel che riguarda bignotizie.it. E' importante che la Concordia resti in Italia, questo il titolo. Il presidente di Molo, Vespucci, Pasqualino, Monti interviene sullo smantellamento della nave Costa e ricorda che il nostro porto è pronto. Mentre, tornando appunto su cimonline.it, ci sono poi le altre notizie. Ad esempio quella del corridoio tirrenico e l'allarme delle imprese della CNA, le aziende locali che sono state tagliate fuori a Tarquinia è un dovere dell'istituzione intervenire a tutela dell'economia del territorio, dice appunto il corridoiano cimonline.it. Poi la politica, la politica con i talcementi al comune, 106 mila metri cubi anziché 90 mila. Questo è il contenuto del provvedimento che è stato approvato in Commissione Urbanistica ieri. Il voto è previsto per lunedì. E noi di questo argomento, ma non solo, di tutti quelli che sono gli argomenti della politica che appunto oggi campeggiano sui quotidiani, vogliamo appunto approfondire queste questioni politiche. Lo facciamo come sempre con un ospite che abbiamo in collegamento telefonico, in questo caso la nostra collega Sonia Bertino, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Ciao Sonia, buongiorno. Buongiorno a te Stefano. Allora Sonia, ci sono varie questioni. Questa dell'italcementico appena letto dal titolo di cimonline.it. Ieri appunto il provvedimento è stato discusso in Commissione, lunedì verrà votato, poi giovedì dovrebbe arrivare in Consiglio Comunale. Poi c'è la Giunta, ieri, che ha preso delle decisioni, alcune di queste piuttosto importanti. Ancora tutta la questione interna al Partito Democratico in vista del congresso con questa nuova presa di posizione dei due consiglieri dissidenti, tra virgolette, Magliani e Guerrini. Andiamo con ordine però, facciamo un argomento per volta. Partiamo da questa questione dell'italcementi perché indubbiamente sarà certamente un ago della bilancia molto importante per la tenuta della maggioranza. Ricordiamo, Magliani contestò molto quello che si voleva fare per quel che riguarda i talcementi. Adesso queste modifiche sono state apportate, giovedì dovrà essere discusso in Consiglio Comunale e quella probabilmente sarà una prima verifica sulla tenuta di questa maggioranza. Sei d'accordo? La prima verifica ci sarà lunedì. Ricordiamo che durante l'ultima commissione urbanistica dove era stato portato il provvedimento dei talcementi, come ricordi tu, il capogruppo del PD Flavio Magliani aveva bocciato il provvedimento e la discussione era stata sospesa. Quindi bisognerà vedere adesso chi lunedì in commissione urbanistica alzerà la mano a favore del nuovo provvedimento portato all'attenzione dei consiglieri comunali e chi invece no. Poi successivamente giovedì ci sarà la prova del 9, se così la vogliamo chiamare, con ancora tra l'altro il problema tra virgolette Pier Federici che tiene banco all'interno della maggioranza. Eh certo, questo infatti sarà da verificare, anche se insomma al momento quella cosa molto probabilmente è in stand by, visto che appunto al momento non può fare il capogruppo del Partito Socialista Pier Federici, alla fine il nodo sarà tutto quello. Andiamo per ordine ancora, dicevamo, la Giunta, ieri la Giunta ha preso delle decisioni importanti, per esempio il fatto che non si possa costruire nulla nell'area di fronte all'ospedale San Paolo, come sai anche tu, c'è addirittura un'indagine in corso della Procura su quell'area e dunque questo potrebbe già dare una prima risposta anche sotto quell'aspetto. Eh sì, infatti come ricorderemo tante volte il sindaco Pietro Tidei aveva detto che nell'area davanti all'ospedale si sarebbe dovuto realizzare il famosissimo parco Enel, un parco attrezzato che avrebbe pagato ovviamente l'Enel, compensando così la sua presenza in città. Un piano, quello del sindaco Tidei, che era stato messo da parte a causa proprio della presenza di quei due piani integrati approvati dalla precedente amministrazione comunale e della proprietà dei terreni da parte di Unicop, su cui terreni gravati dagli usi civici, quindi di proprietà dell'agraria, insomma una vicenda complicatissima che conosci benissimo anche tu. Intanto però un nodo, l'aggiunta ieri lo ha sciolto, su quei terreni non si dovrà costruire, tanto è vero che la promessa fatta diversi giorni fa dal sindaco Tidei, revocheremo i piani integrati, è stata mantenuta. I piani integrati sono stati revocati sia per quanto riguarda la tenuta delle mortelle che Casa Verde, sono ovviamente terreni tutti nei pressi dell'ospedale, oltre all'area proprio davanti all'ospedale vengono coinvolti quindi anche le aree limitrofe, quelle che stanno dietro. Il sindaco prevede che ampliando quindi la zona il parco possa diventare molto più grande e quindi comprendere una zona molto più vasta, tra l'altro ieri da un disegnino che aveva fatto vedere un po' alla stampa, questo parco avrà diverse entrate sia da davanti all'ospedale che da via Berlinguel che da una travessa di via Terme di Traiano, quindi un bel polmone verde di cui tutti i civita vecchiesi potranno usufruire. Senti Sonia, poi per concludere praticamente c'è invece poi quest'altra storia di Tidei che sembra al congresso del Partito Democratico appoggerà il sindaco di Firenze Matteo Renzi, la notizia è apparsa su un quotidiano nazionale, sulla Repubblica, poi smentita parzialmente dal sindaco Pietro Tidei, era stata portata però alla luce da Magliani e Guerrini, ancora loro all'interno del Partito Democratico, insomma anche qui non c'è proprio pace in questo Partito Democratico. Direi proprio di no, più che altro ad allarmare il capogruppo del PD Flavio Magliani erano state le dichiarazioni che il sindaco gli aveva rilassato 48 ore prima, quando aveva dichiarato che avrebbe sostenuto la candidatura di Cuperlo, poi però il quotidiano nazionale La Repubblica riporta che il sindaco Tidei appoggerà al congresso nazionale Renzi e gli animi si erano un po' surriscaldati, più che altro i due consiglieri del PD avevano chiesto maggiore trasparenza anche in vista di questo congresso sulle future manovre che saranno intrapreso ovviamente dal partito sia a livello nazionale che locale. Tidei ha subito smentito quanto riportato dal quotidiano nazionale, anche se non ha come ricordavi tu smentito del tutto, infatti da una parte dice sono legato a Cuperlo da tantissima stima, abbiamo condiviso per 4 anni il banco in commissione giustizia al Parlamento, mi piace però il modo innovativo di Renzi di fare politica, poi però il sindaco ha tenuto anche a precisare che se dovessero essere indette le primarie per scegliere il Presidente del Governo allora sicuramente voterà Renzi, però una cosa è il Governo, un'altra cosa è il partito, esatto, quindi valuterà i programmi al congresso nazionale e lì deciderà chi sarà il prescelto. Infatti questa è stata praticamente un po' la precisazione poi del sindaco. Sonia davvero grazie per essere stata nostra ospite, buon lavoro. Grazie a te Stefano, ciao. Andiamo avanti noi con la nostra rassegna stampa, a questo punto andiamo a vedere qualche titolo della stampa nazionale perché ormai siamo un po' avanti con i tempi e vediamo allora che anche qui si parla molto del futuro del Governo dove per quel che riguarda la Repubblica ad esempio c'è questa dichiarazione che il Premier Letta ha fatto al Presidente della Repubblica napolitano e dice non mi farò logorare, il partito interno lordo peggiora e il deficit supera il 3%. Saccomanni dice per non sforare serve manovra, ho detto il partito interno lordo, in realtà è il prodotto interno lordo naturalmente. Vediamo il Corriere della Sera con i conti pubblici, servirà una manovra e torna in bilico la seconda rata IMU, questo è quanto scrive il Corriere della Sera. Il Ministro dell'Economia Saccomanni dice una correzione a fine anno per rientrare sotto il 3% deficit PIL ma non avrà impatto sull'economia e poi appunto Letta che dice al Quirinale per illustrare il DEF non mi farò logorare. La stampa titola sul partito democratico che invece sembra aver trovato l'intesa, sparisce la coincidenza tra segretario e candidato Premier, tanto per restare nel discorso che si faceva poco fa con Sonia Bertino, accordo notturno il nuovo leader correrà a per Palazzo Chigi ma con possibilità di altri candidati interni al partito. Renzi si adegua oggi il voto finale dell'Assemblea del partito. Con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa, l'appuntamento ovviamente rinnovato a lunedì, domani è domenica, ci riposiamo, ci ritroviamo appunto lunedì mattina alle 10.30 qui su Provincia TV. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata e buon weekend. A lunedì. Grazie. 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 Grazie.